buonasera e bentornati a mi manda in una puntata speciale dedicata alla treviso monte belluna da dicembre 2017 grazie alla razionalizzazione del servizio della regione veneto operata dall'assessore elisa di berti anche questa linea ferroviaria è passata sotto la tagliola il servizio nei festivi e al sabato è stato totalmente cancellato con il pretesto dell'esistenza già delle relazioni tra treviso e belluno se questo è assolutamente vero bisognerebbe ricordare che le corse nei festivi sono già piuttosto ridotte intervenire con altri tagli per sopprimere altre corse non giova al territorio e non giova soprattutto ai turisti e ai viaggiatori del weekend anche qui il potenziale turistico ed il servizio essenziale non vengono considerati lasciando una certa carenza dal punto di vista dei trasporti forse questo il veneto dovrebbe considerarlo grazie per avere seguito questa puntata